E con il numero 19, il capitano, Leo! Con il numero 63, Patrice! Con il numero 68, Riccardo! E con il numero 79, Fred! A disposizione del Milan, con il numero 30, Marco Storari! Con il numero 90, Antonio Donnarumma! Con il numero 4, Jose Mauri! Con il numero 7, Nicola Kalinic! Con il numero 9, Andrei Sivosa! Con il numero 11, Fabio Borini! Con il numero 17, Cristian! E con il numero 20, Ignazio! Con il numero 22, Matteo! Con il numero 31, Luca! E con il numero 73, Manuel! Il nostro allenatore, Gianluca! Jeanilla! μας possibil Bruno! Io! Andrei Se 그때, mi worry! E con il numero 30, il numero 31, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.